Quando ci siamo presentati al Paese come classe dirigente chiedendo il voto, noi siamo presi impegni di amministrarlo questo Paese, non di salvaguardare delle posizioni personali o di gruppo. Io penso che il senso di responsabilità rispetto a quanto sto sostenendo in questo momento prevalga su ogni diversa ragione di parte, perché alla fine qui bisogna assolutamente fare squadra per affrontare le grandi problematiche che ci aspettano. Indebolire questo schieramento solo per una questione di collocazione o altro secondo me non conviene a nessuno e nessuno insisterà, credo, a tal punto da poter creare uno strappo che poi sarebbe difficilissimo giustificare agli occhi del Paese che in qualche modo si aspetta da noi quello che è un'amministrazione attiva, fattiva e che risolve i problemi così come ha preso impegno durante la campagna elettorale di fare. E' veramente il problema partecipato, il nodo di tutta la situazione? Io penso che questi siano dei falsi problemi, perché non penso che alla fine bisogna affezionarsi all'idea di essere capaci di gestire solo ed esclusivamente un ambito. Io faccio l'amministratore, chiunque sia a gestire un ambito, sicuramente nel discorso di squadra che si dovrà perfezionare, ci sarà spazio per tutti di partecipare a quello che sono le cose. Le soluzioni a quello che devono essere le organizzazioni dei servizi. Non credo sia questo il problema, se poi se ne fa una questione di principio da una parte o dall'altra, credo che questo sia assolutamente superabile, come è appunto superabile l'aspettativa dei gruppi rispetto a quello che sarebbero state le ideali deleghe che si volevano andare a gestire. Non ci sono dei condizionamenti tali da non poter superare quello che possono essere malintesi, io vorrei così dichiararli malintesi rispetto a quello che sono le disponibilità che anche il sindaco in qualsiasi momento ha dato. E voglio aggiungere questo relativamente a quello che era la necessità di superare l'ampassa, l'aggiunta tecnica e tutto quanto. Per prima io ho accettato l'incarico di assessore dimettendomi da consiglieri, dando subito quello che è la dimostrazione della fiducia nel sindaco e in questa amministrazione. Diversamente sarei stato lì legato alla sedia senza dare nessun segnale che va nella direzione di dire incominciamo, cerchiamo di fare bene quello che il paese si aspetta che noi facciamo. Un eventuale approccio con l'opposizione per sopravvivere a tutti i costi? Sopravvivere a tutti i costi non è un termine che mi piace né un'espressione corretta perché credo che chiunque si presenti al paese, da qualsiasi parte stia o con qualsiasi schieramento stia, non chiede all'elettore di andare all'opposizione, ma all'elettore propone qual è la sua idea per cercare di dare una mano al paese. Quindi da qualsiasi parte stiano, coloro i quali hanno la disponibilità di dare una mano al paese benvengano perché nessuno mai ha precluso a nessuno, tantomeno a quelli che oggi siedono sul banco delle opposizioni, di non partecipare a quelle che sono le soluzioni delle problematiche del paese.